salve popolo di youtube sono alcuni amici che hanno l'opuscoli mi hanno chiesto signor leone signore una revisione anche se qua voglio dire che ci sta da fare chissà che calcoli però sta qualche persona insomma avanti con gli anni e tutto va bene ve la preparo allora ascoltate non ho messo l'altra ruota perché non mi sembra il caso ovviamente perché chi ha il merito sa l'altra ruota qual è ho messo solo firenze ovviamente vedo anche specifica questa previsione per tutti quelli che hanno in merito dell'ambo che non perdona allora io ho messo firenze solo firenze e chi ha il puscrono sa la ruota precisa le ruote precise ambi e ambetti 73 84 73 39 39 84 sono figure ovviamente figure a tre e poi la quartiere per l'ambo eterno il 90 quando non è stato messo a casa e la metodologia che tira fuori il 90 quindi come avete visto un sacco di merito tirano fuori il 90 su firenze anche genova un sacco di metodologia poi offre che se non vedete il 90 verrà fuori come io insomma il 9 senza portarvi dalla lunga quindi e vi ho fatto vedere il mio scontino di questa mattina quindi auguro a tutti voi ve l'ho anche scritto qua come vedete mancano le altre ruote nb giusto per essere chiare quindi 73 84 70 3 39 39 34 mi sono dimenticato ah no scritto ambi e ambetti si diciamolo così ecco qua ovviamente questi sono i miei regali i due ambi che si verranno giocati domani già li sapete li ho fatti vedere in tutti gli altri video quindi non c'è bisogno di dimensionarli se ancora non servirebbe va bene ovviamente il metodo dell'ambo uguale sarete anche per quanti tutti si gioca è diverso dal lambo unico che che gioco io ed altre persone questa è una previsione di chi ovviamente c'è lo busco come l'avete chiesto e io l'ho fatto senza problemi da rione tutto ciao